Bella di là, ed ecco svelato l'arcano, com'è che non c'era Vanessa? Splendida Vanessa, davvero splendida con questo nostro reggiseno che come vi diceva, vi stava spiegando Francesca, è bello da portacomé intimo Teenager, ragazze molto giovani, bellissime come Vanessa, fino veramente alle persone più agé quindi possiamo dire veramente un utilizzo che va dalla nipote alla nonna effettivamente è indossato da Vanessa un reggiseno che veramente tutti gli indomenti che abbiamo in casa per esempio la camiterà assolutamente modaiolo e a proposito Francesca di contrapposizioni, bellissima la tua idea dico dalla regia che c'è una telefonata da grottaglie pronto seguite i nostri consigli perché guardate veramente come sta bene a lato questi reggiseni Francesca, come si lavano? è molto semplice, tra l'altro nella progettazione, nell'ideazione della comodità in assoluto e praticità è stata tolta anche quell'antipato Grazie! Grazie! Grazie!